Ciao, cari amici di AMF Channel. Il grande fratello è in fermento, e noi siamo qui con gli ultimi aggiornamenti. Sono giorni di polemiche e sorprese, ma prima di tutto, diamo un'occhiata ai sondaggi. Nel primo, Greta è al comando con il 37%, seguita da Federico al 33%, e Marco Maddaloni chiude la classifica. Ma attenzione, perché il nostro sondaggio ha un'insospettabile sorpresa, Marco Maddaloni in testa con il 34%, Greta al 33%, e Federico Massaro al 32%. Sta succedendo qualcosa di inaspettato, e la situazione potrebbe cambiare. Nel primo sondaggio, solo 918 voti, nel secondo quasi 2000. Questo potrebbe influenzare l'eliminazione. Forse non sarà Marco Maddaloni ad uscire, ma il televoto lo manderà in nomination con un altro concorrente. Siamo solo martedì, e la situazione è ancora fluida. Greta ha avuto il tempo di farsi conoscere, ma attenzione, perché Federico e Marco Maddaloni hanno il loro fan. Marco, con la sua storia sportiva e la partecipazione all'Isola dei Famosi, ha conquistato il pubblico. Le votazioni sono aperte, e il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Sarà una sfida fino all'ultimo voto, e solo negli ultimi giorni sapremo chi sarà il prossimo eliminato. Marco Maddaloni, Greta, e Federico Massaro stanno affrontando una situazione incerta. Rimanete sintonizzati, perché questa storia potrebbe prendere una piega che nessuno si aspetta. Cosa ne pensate voi? Ditelo nei commenti. Ecco tutto per oggi, se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news. A presto su AMF Channel.